Ciao ragazzi, in questo tutorial continuiamo il discorso iniziato nel video precedente di questa playlist sul meccanismo di convalida dati in Excel, lo strumento che consente di definire le limitazioni sui dati che possono essere inseriti nelle celle del foglio di lavoro, evitando all'utente di commettere errori di digitazione e di disattenzione. In questo video analizziamo le opzioni disponibili per l'inserimento di testi di lunghezza fissa, utili soprattutto quando dobbiamo inserire codici postali, codici fiscali e numeri di partita IVA, e vediamo come si possa consentire persino l'inserimento di dati che soddisfino alcune condizioni espresse mediante le formule. Negli esercizi proposti ripassiamo anche le tecniche che ci consentono di individuare gli eventuali errori di inserimento dati e di personalizzare l'interfaccia utente mediante i messaggi di input e di messaggi di errore. Iniziamo! In questa tabella ho riportato alcuni dati anagrafici relativi ai venditori dell'azienda PC Future. Per quanto riguarda i dati inseriti nella colonna B, trattandosi di codici di avviamento postale, si tratta di dati di lunghezza fissa e per la precisione un codice di avviamento postale è formato da 5 numeri e dunque nella scheda impostazioni della convalida dati impostiamo un lunghezza testo esattamente uguale a 5 e confermiamo con OK. Siccome l'inserimento dei dati è stato effettuato prima dell'assegnazione dei criteri di convalida, proviamo a vedere se è stato commesso qualche errore e cerchiamo dunque i dati non validi. Come si può notare è stato commesso un errore nell'inserimento del codice postale di Covo che contiene 6 caratteri. Eliminiamo l'ultimo poiché il codice postale esatto è 24 050 e confermiamo con invio. Il cerchio è scomparso e dunque ora è tutto OK. Per quanto riguarda il codice fiscale sappiamo benissimo che un codice fiscale contiene 16 caratteri e dunque possiamo tornare in convalida dati e impostare una lunghezza testo uguale a 16 e confermare con OK. Anche in questo caso possiamo vedere se è stato commesso un errore. Cerchiamo dunque i dati non validi e notiamo subito che il codice fiscale di Silvestri Ilaria è errato, infatti contiene due lettere alla fine. Eliminiamo l'ultima lettera e confermiamo con invio. Ora è tutto corretto. Passiamo dunque alla colonna della partita IVA e sappiamo benissimo che una partita IVA è un codice numerico formato da 11 caratteri e dunque confermiamo una lunghezza testo uguale a 11 caratteri e confermiamo con OK. Controlliamo di nuovo i dati inseriti e notiamo che stavolta due partite IVA sono sbagliate. Eliminiamo dunque due numeri e notiamo che ora, almeno per quanto riguarda la lunghezza, le partite IVA sono corrette. Vediamo ora alcuni esempi in cui la convalida viene inserita mediante una formula. In questo primo esempio vi voglio mostrare come è possibile impostare un quiz sulle due operazioni di base, la somma e il prodotto. Iniziamo con la somma. Selezioniamo tutta la colonna C e dal tab dati selezioniamo con valida dati. Successivamente, nella scheda impostazioni consentiamo un valore personalizzato ed inseriamo una formula. La formula, come abbiamo già visto in un video precedente, deve iniziare con uguale, dunque digitiamo uguale e clicchiamo nella cella C4. La cella C4 deve essere uguale alla cella A4 più la cella B4. Da notare l'utilizzo dei riferimenti relativi, poiché la formula si deve adattare anche alle celle sottostanti e quindi, ripeto, la formula mi dice che la cella C4 deve essere uguale alla cella A4 più la cella B4. Infine, per evitare la visualizzazione di inutili messaggi di errore, togliamo la spunta qui in mostra messaggio di errore e confermiamo con OK. In questo modo potremo controllare l'esattezza delle nostre operazioni solamente alla fine, mediante il comando Cerchi a dati non validi. Selezioniamo ora la colonna D e impostiamo anche qui i criteri di convalida. Impostiamo dunque, dopo aver tolto di nuovo qui la spunta da mostra messaggio di errore, un valore personalizzato che soddisfi la formula uguale alla cella D4 in cui vogliamo il risultato, uguale alla cella A4 per la cella B4. E anche qui ho utilizzato dei riferimenti relativi, in modo che la formula si adatti anche alle celle sottostanti. Dopo aver confermato con OK, vi voglio mostrare che ad esempio in cella D9, cliccando su Convalida dati, la formula si è adattata perfettamente alla nuova cella, infatti mi dice che la cella D9 deve essere uguale alla cella A9 moltiplicata per la cella B9. Chiudiamo ora questa wizard e compiliamo il test, commettendo magari qualche errore. Ora che il test è completo, possiamo cliccare sul comando Cerchi a dati non validi ed individuare gli errori commessi e dunque correggerli. Passiamo ora a un secondo esempio. In questa tabella dobbiamo registrare l'orario di ingresso e di uscita di ogni venditore dell'azienda PC Future al convegno del 1 settembre 2020. Come si può notare, nella prima colonna della tabella ho già impostato una convalida dati mediante un elenco, in cui posso scegliere il nome del venditore. Nella seconda colonna della tabella vorrei impostare un criterio di convalida in modo che gli orari di ingresso vengano inseriti in ordine progressivo e dunque seleziono tutte le celle della seconda colonna tranne la prima, poiché nella prima può essere inserito un qualsiasi orario di ingresso. Con la selezione attiva selezioniamo il tab dati e selezioniamo convalida dati. A questo punto nella scheda impostazioni non possiamo consentire l'ingresso di un'ora qualsiasi, poiché le ore potrebbero essere inserite casualmente e non in base all'ordine di arrivo. Dunque selezioniamo personalizzato ed inseriamo una formula. Digitiamo dunque uguale e imponiamo che il valore della cella B5, cioè l'orario di ingresso di Bianchi Luca sia maggiore del valore della cella G4 che contiene l'orario di ingresso del partecipante arrivato in precedenza. Vi faccio notare che ho lasciato i riferimenti relativi. Confermiamo ora con OK e posizionandoci in una qualsiasi cella della seconda colonna andiamo di nuovo su convalida dati e vediamo che il valore della cella G10, cella in cui siamo posizionati, deve essere maggiore del valore della cella G9. Tutto funziona dunque correttamente, però, visto che due partecipanti potrebbero arrivare contemporaneamente, aggiungo qui nella formula un uguale, in modo da consentire anche l'ingresso simultaneo a più partecipanti. Siccome la modifica deve riguardare tutte le celle della seconda colonna, metto una spunta su Applica le modifiche a tutte le altre celle con le stesse impostazioni e confermo con OK. A questo punto, inserendo ad esempio di nuovo 8 e 25, l'orario viene confermato, mentre inserendo un orario precedente, ad esempio 8 e 20, veniamo bloccati e cliccando sul pulsante Riprova possiamo inserire ad esempio un orario successivo 8 e 26 e confermare con invio. In questo modo l'orario viene convalidato e inserito. Per quanto riguarda invece la terza colonna della nostra tabella, possiamo solamente convalidare orari di uscita che non siano precedenti all'orario di ingresso. Consentiamo dunque un valore personalizzato e inseriamo una formula. La cella H4 deve essere necessariamente maggiore oppure uguale alla cella G4 che contiene l'orario di ingresso. Confermando con OK non ci resta che verificare la formula inserita. Inseriamo ad esempio 8 e 20 come orario di uscita. Veniamo subito bloccati. Clicchiamo dunque sul pulsante riprova ed inseriamo un orario successivo, ad esempio 15 e 20. L'orario viene accettato. Vediamo ora un terzo esempio in cui iniziamo ad utilizzare qualche funzione di Excel. In questo esercizio dobbiamo suddividere una classe formata da 15 alunni in 5 gruppi composti da 3 alunni ciascuno. I gruppi vengono indicati con le prime 5 lettere dell'alfabeto. In pratica vogliamo che ognuna di queste 5 lettere dell'alfabeto compaia non più di 3 volte in questa lista. Ad esempio proviamo a inserire la lettera A. Dopo averla inserita 3 volte, quando tentiamo di inserirla per la quarta volta, Excel ci blocca con un messaggio di errore. Come si può notare ho provveduto in precedenza a personalizzare il messaggio di errore. Ora vi mostro come si procede per ottenere questo risultato. Si seleziona la terza colonna della tabella e dal tab dati si seleziona con valida dati. Nella scheda impostazioni si consente un valore personalizzato e nella casella formula si inserisce la funzione Conta se che vi spiegherò in un prossimo tutorial. Praticamente con questa formula io ho detto a Excel di contare quante volte in questo intervallo selezionato, cioè l'intervallo N4 N18 che io ho bloccato con riferimento assoluto, compare il valore che c'è nella cella N4. Ed ho detto a Excel che il numero delle volte che compare tale valore nell'intervallo indicato deve essere minore oppure uguale a 3. Se tale numero è minore uguale a 3, Excel inserirà il valore, altrimenti visualizzerà un messaggio di errore che io ho personalizzato. Ora annullo e visualizzo la formula in un'altra cella, magari una cella contenente già la lettera A. Andiamo di nuovo in Convalida dati ed apriamo la scheda impostazioni. Come si può notare, la formula è identica alla precedente, ma conta quante volte nell'intervallo che prima avevo selezionato compare il valore della cella N12, cioè la lettera A. Anche qui il valore inserito deve essere contenuto al massimo 3 volte nella terza colonna del database, altrimenti non potrà essere inserito. Proviamo anche con la lettera B. Inserendo la lettera B in tre celle l'operazione viene consentita, ma inserendolo per la quarta volta veniamo subito bloccati nell'immissione. Come ultima osservazione prima di passare al prossimo esempio, vi dico solamente che se io avessi impostato in questa formula uguale a 1 al posto che è minore o uguale a 3, io avrei consentito in questa colonna solamente l'inserimento di valori univoci, cioè avrei impedito di inserire valori duplicati. Questa operazione può essere utile quando vogliamo evitare di inserire due volte lo stesso nome in un elenco. Ricordate dunque, la stessa formula con uguale a 1 qui alla fine consente solamente l'inserimento di valori univoci in un elenco. Vediamo ora un ultimo esempio. In quest'ultimo esercizio ho impostato una tabella per la raccolta dei giudizi di condotta. Vorrei impedire che il consiglio di classe esprimesse il voto di condotta solamente mediante un numero. Ad esempio, assegnando a Ferro Elisa il voto 9 e premento invio, l'immissione del valore viene immediatamente bloccata. E siccome al messaggio di errore ho assegnato lo stile interruzione, non ho la possibilità di inserire come giudizio di condotta un semplice numero. Riproviamo ed inseriamo un giudizio di condotta vero e proprio, cioè un numero abbinato ad un testo. Una volta inserito il testo, premendo invio, l'immissione dei dati viene accettata. Vediamo ora come ho impostato questa convalida. Seleziono l'intervallo contenente i giudizi di condotta e dal tab dati seleziono convalida dati. Come negli esempi precedenti, nella scheda impostazioni ho consentito un valore personalizzato ed ho utilizzato la funzione val.testo, che analizza il testo contenuto nella cella T4 e, trovando un testo, dà come risultato il valore logico vero e dunque consente l'immissione del testo. Quando invece questa funzione trova come contenuto nella cella analizzata un valore numerico, fornisce come risultato il valore logico falso e non consente l'inserimento del numero. Come si può notare cliccando in una qualsiasi cella di questa colonna, la funzione si adatta in base al valore della cella attiva, che in questo caso è la cella T11. Questo accade perché ho utilizzato un riferimento relativo, cioè non ho bloccato l'indirizzo di cella mediante il tasto F4. Mediante le funzioni di Excel è possibile assegnare molti criteri di convalida personalizzati, praticamente infiniti, ma di questo ci occuperemo nel corso avanzato, dove, mediante la funzione indiretto, impareremo ad assegnare anche criteri di convalida dinamici. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial descriveremo le innumerevoli opzioni che Excel ci mette a disposizione per effettuare le operazioni di copia e incolla, opzioni che molte persone conoscono solo superficialmente o addirittura non conoscono e che ci permettono di risparmiare un sacco di tempo. Vi aspetto. Ciao!